in cui Nook si deciderà a piccare quando mancheranno 5 secondi alla fine del game se Nook picca l'unico inimitabile Nico invece picca l'unico inimitabile ho messo il rec però Nico ho messo la registrazione perché si può perdere questa cosa ben ritrovati Nicola no skin, skin della Ghost pessima skin della Ghost anche della Frenzy bruttissima siamo all'incirca su 5-6 skin di 7 pass fa Nook abbiamo una skin di alta qualità un coltello di qualità altissima un coltello da parte di Nook diretto all'interno di Nico un Decay, un Suppress da parte di Nico sensore nessuno dei tuoi push Nicola guarda il muro bello il muro gli piace il muro push, non si vedono Nook spara continuano a guardarsi Nook viene one tappa Nicola molto, molto, molto banale se Nook picca picca col suo col cavallo attenzione pensa di fare una L bel baddita a cavallo un cavallone una stallone l'unico missa due colpi stallone di stocca fulilla ti coglione Nicola si è fulillato un po' too late attenzione lo missa, lo missa, lo missa continua a missarlo già culo lo si fulilla attenzione ricarica quasi close verso il muro flash è inutile attenzione sparato colpi contro il muro lo sente è precisamente lì lo vede ah no cazzo quello sono io attenzione lo hita missa tutto si illa va a prendere l'ill guarda l'ill non si sa perché prende l'orb orb dell'ult attenzione coltello 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 attenzione Nuk è fucussato non capisce nulla non mi sta ascoltando quel bastardo lo vede lo manca lo vede lo rimanca ti manca? Nuk non capisce attenzione Nuk attenzione Nuk Nuk lo uccide con the gun Nuk mira il pavimento mira la testa la testa precisa attenzione one tap da parte di Nuk che coltello da parte di Nuk per un suppress da parte delle Niko picca Niko flasha Nuk flasha la miss la miss da parte di Nuk entrambi one shot entrambi con la stessa sheriff dello stesso colore non capisco chi sia chi la stessa sheriff solo che uno è un coltello grigio e l'altro è un coltello multicol attenzione boh adine scappareggio attenzione Niko prende l'orbe dell'ult lo vede lo manca lo rimanca lo riprende attenzione prende l'orbe della vita inutile però l'ha uccid l'ha rubata agli altri perfetto prende lo vede ha missato ma come citta lui citta lui citta signore lui citta all'ulti pieno signore cosa farà di quest'ulti a breve inizierà lo stage 3 in cui avremo il guardian siamo 7 minuti e 24 per ora attenzione attenzione l'ho missa si missano vicende entrambi Nuk picca un muro prova a fare wallbang ricarica attenzione pessimo timing di ricarica si vedono continuano a vedersi Nuk pensava di poter andare dietro al muro ma non c'è andato attenzione Niko suppressed da parte di Nuk sono vicinissimi attenzione Niko ricarica si spaventa Nuk missa Niko pensa di fliccare in testa ma purtroppo il nabo non sa fare un cazzo attenzione guardian da parte di Nuk Niko lo one tap in modo talmente tanto poco clean che la merda è più pulita ho finito il tappettino l'ho missa l'ho missa si missa ne si hitano attenzione Nuk prende va avanti guarda il pavimento ottimo diciamo che la terra è fatta molto bene in questo momento alta texture da parte della terra attenzione l'ho missa si missa si missa lo continuano a missarsi Nuk lo hit a body attenzione Niko mira ho antaffato l'isi mi parla dal maestro mi parla da Nuk ma mi pensi Niko mi parla da me mezza sega e Niko va a prendere l'hill silla attenzione l'ho missa l'ho missa l'ho missa continuava a muovere il mouse se stava fermo lo uccideva attenzione Nuk mira un punto anche se quello è il cielo ma fa bene lo apprezziamo continua a mirare un punto anche lui è il cielo sempre continua a mirare mira mira Niko guarda prende l'outil attenzione un colpo per Nuk Niko che cazzo mi sto confondendo va bene lo stesso attenzione Niko un colpo in canna no heal attenzione lo vede Niko l'ho missa Nuk viene initato attenzione a mira Niko fa schifo se Niko ricarica due colpi manco fosse uno shotgun di COD non è l'Olympia Niko stai attento attento è potenziato è pacca panciato Olimpia è pacca panciato pensa al flick ma non flicka non è capace di flickare una mira pessima da parte di Niko l'ho missa di nuovo tre colpi l'ho in canna e un incaricatore a breve attenzione Niko prende attenzione Nicola headshot c'è quello davanti comunque guarda della vita attenzione prende l'ultimo continuo a tentare di prendere l'ultima senza sapere che c'è l'ultativa attenzione Niko va alla sua destra attenzione alla sua sinistra attenzione ma che cazzo va alla sua destra alla sua sinistra in realtà è quello che stava facendo Niko quindi già nel senso sia a destra che a sinistra lo possiamo vedere attentamente in questo momento la discord c'è la cam possiamo salvare l'ultima parte di Nicola un Hs fatto completamente a culo perché Nicola fa cagare ma un Hs dentro non soltanto perché si croncia attenzione lo vede un Hs fatto ottimo non si è cronciato abbiamo visto che se non si croncia magari riesce a fare qualcosa attenzione riprende l'ordero riposizionamento da parte di Nicola dietro una box una casetta diciamo che la casetta dei quattro porcellini è quella di India Nicola lo push attenzione l'hs da parte di Nicola cambia spot si shifta non si shifta continuano a shifta attenzione push a nuke attenzione nuke sta soffrendo sta bestemmiando dentro percepiamo vedo le bestemmie vedo il bestemmione attenzione nuke non si sconfia ha appena guardato la minimappa dopo aver guardato la minimappa l'ha sgonfiato attenzione si vedono non si vedono Nicola va all'interno del coltello di nuke c'è un piccolo un piccolo suppress 4 secondi 3 secondi 2 secondi nuke nuke lo vede picca nuke continua a piccarlo nuke la sua sinistra nicola sua destra ti affisco con cazzo attenzione Nicola è fucussatissimo nuke c'è un oh ci stanno uscendo le vene da buca comunque da quanto fucussato attenzione nuke flash subito a sinistra si mette dietro un muro pensato di essere flashato e invece non vedo più cazzo continuo ad aspettare perché non ce l'hai mezzo di cenne basta che guardi verso il basso per vedere un uccello attenzione nuke flash la riflessia quando è il momento di flashare puoi uscire e piccare in senso un'ottima flash direi attenzione è una flash pessima sì va ma sì esatto non per dire ma sì vai attenzione nuke esce lo vede Nicola manca pessima mira pessima mira due volte pessima mira che culo solo perché lì ha fatto un airshot attraverso il muro attenzione lo mira lo missa pessima mira da parte di Nicola 30 HP prende l'orbe dello scudo non azzardati a fare quello che stavo pensando che tu stessi volendo fare attenzione non lo vede continua a mirare lì continua a non vederlo lo vede la sua destra la sua sinistra la sua centro lo missa che mira del cazzo che c'è Nicola c'è c'è puttana sì sputa lì addosso nuke attenzione Nicola prende l'overhill overhill sull'overhill un'overhill dell'overhill contro essere un overhill in overhill completo attenzione Nicola pusha attenzione un'altra est parte di Nicola pensa di prenderlo per il piccolo invece non lo pensato copicano ricarica nuke esce fuori lo vede lo missa lo hitta lo vede testa alla fine ottimo gli ha fatto più o meno 390 di danni non si sa attenzione nuke 9 kill Nicola 23 deve soltanto recuperare attenzione nuke gli fa un altro kill ultimo combaccabile attenzione ult da parte di nuke di nuovo ricarica la ult 71% di ult attenzione nuke mira un punto mira un altro punto lo vede attenzione nuke piccolo panic time va a sua sinistra attenzione Nicola lo hitta wallbang attraverso le casse se manco fosse un frutto vendolo che dà le casse in giro fa wallbang attenzione Nicola lo vede in testa attenzione nuke scende Nicola pensa di farle beffa nuke con la ghost invece pensa ma non è nessuno non è nessuno perché Nicola lo vede ma Nicola lo miss niente lo vede lo miss winder attenzione Nicola crede ancora di farsi beffa di nuke usando la ghost invece nuke delle posizioni all'interno del buco del culo attenzione una flash da parte di nuke veramente ottima se fosse stata fatta in comp attenzione Nicola se non letavi nuke ti sgozzavo Nicola pensa tenta ancora di farsi beffa attenzione nuke aspetta nico attenzione 6 ace per nico nuke tanto almeno lo stesso attenzione palla esplosiva in cui nico prende danno phantom da parte di nico è l'ottima scelta solo per il crunch perché adesso siamo su crunch simulato attenzione orbite l'ulto da parte di nico nuke ulta attenzione nuke esce così cattivo aggressivo in modo così aggressivo aggressivissimo attenzione un one tap fermissimo da parte di nico nessuno può capire cosa possa succedere adesso tocca a Nicola cercare di tentare tentare di cercare di andare sopra attenzione nuke lo pede lo vede ci missano di miss ci mancano vi volete bene ma vi mancate attenzione nuke mi da un punto attenzione il nico non soffitto attenzione il nico pensa di fare un counter strafing attenzione nuke body shot non gli interessa a lui l'importante è che lo killa l'importante è poter portarsi a casa la vittoria per questa serata attenzione alle Valorant torneo olympics 2024 del fai poco lo sbolone con quel one-up perché se entro io in lobby ti sgonfio ma cosa va lo vedi cerca di un micro flick un piccolo aggiustamento una a destra l'altro va a sinistra poi continua una a destra poi a sinistra poi di nuovo a destra poi a sinistra continua e l'abbia andata una a destra una a sinistra nico dice nuke nico ricarica di trovare box l'altro ha visto nico dicione il crouch simulator Nicola ranna in gamma buco di culo non si illa perché è ritardato attenzione Nicola mira il pavimento ricarica ma va bene c'è la ghost da parte di nico nuke viene sta tirando 47 bestemmi dentro lo percepisco vedo il muso di nuke attenzione nico attenzione uno due no apprezziamo lo stesso faccia cagare un applauso di cazzo no come è finito ma come è finito ragazzi la partita si è conclusa un 27-17 una schiacciante sconfitta da parte di nico ti lasceremo intendere chi del dubbio gg di nico si sente un cazzo no di che è quitato oddio io non sentivo non sentivo i passi di nico di nico